Siamo nella delegazione di Saline del comune di Montebello Ionico con il dottor Mario Muccio che ci vuole parlare dell'iniziativa che è stata appena trascorsa qui nella frazione con tanti partecipanti. Devo dire che la solidarietà manca a grandi livelli, quindi noi dobbiamo contaminare il territorio affinché la solidarietà si diffonda come un'epidemia. Adesso passo la parola a lui per Telemelito, ci dirà come è nata questa iniziativa. La solidarietà è un'attività e quindi quando abbiamo trovato sul territorio iniziative che meritavano un'attenzione particolare l'abbiamo sempre perseguita. ci è sembrato giusto e opportuno riconoscere questa importante attività di questa associazione di volontariato che ospita molti calabresi, soprattutto di questa zona, in momenti di difficoltà. E quindi avendo saputo che sul territorio c'erano queste signore dell'associazione di volontariato Amici dell'Oncologia abbiamo deciso di organizzare una piccola cerimonia in maniera molto sobria con una targa ricordo. E ovviamente questo percorso di attenzione alla solidarietà lo vogliamo ancora perseguire, lo vogliamo ancora continuare con degli incontri mirati con altre associazioni che si occupano appunto di solidarietà e cercano di supplire ad eventuali e possibili carenze da parte delle istituzioni. Ci è sembrato un momento opportuno, doveroso di attenzione a queste iniziative. Tutto qua.